bello a tutti ragazzi qui è giocatore del santo e per ritrovare il mio canale oggi siamo qui con un nuovo episodio della carriera giocatore su fifa 15 questa è quella classifica ragazzi siamo a 4 vittorie su 4 quindi a 12 punti in testa da soli alla classifica e oggi andremo a giocare la partita contro il liverpool fuori casa quindi ragazzi ci aspetta davvero una partita durissima e poi se non è nato rischiare titolare andiamo a giocare la capitola one cup altrimenti un'altra partita di campionato quindi noi ci vediamo in campo ragazzi contro il liverpool prima però come sempre vi invito a lasciare un bel like ragazzi ci chiamiamo di arrivare a 200 like per supportare al massimo questa carriera giocatore noi ci vediamo in campo bella eccoci qui ragazzi le squadre stanno per entrare in campo siamo ad anfield uno stadio fantastico è molto molto duro ragazzi giocare qui quindi ci chiamiamo di fare una bella partita e inizia adesso liverpool celsi david luis con la maglia del liverpool vidal con la maglia del liverpool fatto uno squadrone il liverpool attenzione storling il sinistro di star ridge mamma mia star ridge attenzione panovic guardami 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 ok buona è buona è buona è buona forza forza così forza così forza così forza così forza così la finta su david luis su david luis no perché ho tirato così male con i piedi la parata storling la perda se c'è la moncana possiamo andare la finta su storling anche david luis a vuoto e poi il sinistro e stavolta lo sbagliamo uno a zero perché sono ammonito e non ho fatto nulla perché sono ammonito vabbè comunque uno a zero non so perché sono ammonito quarto gol in champions mi ha ammonito ma per cosa non ho fatto nulla non ho fatto nulla non ho neanche fatto fallo che ha dato vantaggio e poi quando di solito quando danno vantaggio e fanno continuare dopo fanno vedere la scena che mi ammonisce fanno rivedere il fallo per cui mi ha ammonito ma non ho fatto nulla dentro per Coutinho Coutinho fermatelo Coutinho dentro Origi fermatelo fermatelo il tacco Coutinho Courtois che è buona la finta è subito il cross dentro di testa arriva Cinope attenzione appoggia Matic benza rovesciata mamma mia la toccata Coutinho ecco perché ha preso quell'effetto stranissimo calcio d'angolo comunque lo battiamo noi dentro di testa non ci arriva nessuno poi baci di testa attenzione Ivanovic è buona Matic guardami guardami Felipe Luis la botta deviata ancora calcio d'angolo attenzione Valotelli il destro deviato fuori dall'altro lato Starridge Starridge passa Sterling calcio di rigore ancora una volta calcio di rigore come farci rimontare come farci rimontare proprio Courtois contro Vidal parte Vidal la finta Courtois stavolta non ti sei mosso proprio 1 a 1 attenzione Matic Matic dentro è buona Matic guardami è buona è buona è buona qualcuno in mezzo qualcuno in mezzo la finta il sinistro Mignoletto perché sul palo sull'altro palo dovevo farlo Ramirez Ramirez appoggia è buona è buona Matic Matic appoggia è buona 1 2 dentro con qualcuno il destro di Azor ancora Mignoletto guardami 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 su primo palo è buona destra stacchiamo no forza forza ragazzi ci serve un gol ci serve un gol voglio vincere voglio vincere in questo stadio voglio vincere dentro attenzione sinistro Corozard fuori attenzione Vidal 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 dentro attenzione il destro di Coutinho fuori attenzione questi sbagli ma perché non sbagliano neanche un passaggio questi ma neanche un passaggio sbagliano non lo so chiamato non lo so chiamato fuori uno valutelli e deve fischiare adesso l'altro 1 a 1 cavolo valutazione 6.7 cavolo ci tenevo ragazzi ci tenevo a vincere in questo stadio contro il Liverpool fa niente prossima partita ragazzi siamo stati ancora inseriti nella formazione titolare quindi noi ci vediamo in campo contro il West Bromwich siamo al turno 3 quindi ancora presto per vedere gli ottavi e tutto siamo ancora al turno 3 quindi ancora presto cerchiamo di vincere ragazzi contro il West Bromwich di solito noi fatichiamo sempre con le squadre piccole anche negli altri turni di coppa abbiamo faticato quindi stiamo attenti noi ci vediamo in campo ragazzi contro il West Bromwich bello eccoci qui ragazzi le squadre stanno per entrare in campo siamo allo Stamford Bridge e inizia adesso Chelsea West Bromwich attenzione il cross dentro mamma mia che cavolo di stacco ha fatto questo attenzione Brandt fermatelo dentro Gamboa al destro Courtois attenzione alla trova ragazzi stiamo soffrendo in una maniera incredibile Dorras dentro ancora non ci credo ragazzi non ci credo stiamo facendo una fatica incredibile fino al nuovo tempo non so che cosa è successo in questo primo tempo io il Chelsea in campo non l'ho visto guardate i tiri in porta 4-0 ma fosse una volta che magari le parti si invertono e noi facciamo un gol cioè noi facciamo un tiro in porta e segniamo magari una sola volta chiedo solo questo visto che FIFA 15 ormai tra un mese nessuno più ci giocherà magari solo una volta voglio capire che cosa si prova a segnare facendo solo un tiro in porta attenzione pocognoli dentro attenzione ho parlato fuori l'ho vista l'ho vista dentro ancora vicinissimi al gol cacuta guardami guardami bellissimo no 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 un po' troppo lungo buttati cavolo un po' troppo lungo attenzione pocognoli dentro di testa via che stacco che ha fatto quello ragazzi questi di testa sono dei fenomeni vai via così abbiamo messo anche su offensiva su offensiva sono io da solo dai dai meno male che siamo su offensiva dai no no perché mi sono fermato oddio tutta la difesa all'aria tutta la difesa all'aria 1 a 0 primo tiro in porta che gol ragazzi che gol uno dei più belli uno dei più belli tutta la difesa all'aria ragazzi tutta la difesa all'aria e poi la piazziamo calcio d'angolo attenzione dentro piego sì io rimango sul primo palo no mamma mia che miracolo che hai fatto che è il miracolo che hai fatto purtroppo attenzione calcio d'angolo dentro ti testa via ho salvato io ho salvato io via via a parte che secondo me non entrava neanche è finita qua 1 a 0 guardiamo i tiri in porta ragazzi valutazione 6.5 nonostante ho segnato il gol della qualificazione guardiamo qua i tiri 8 tiri a 1 mi sento bene ragazzi per la prima volta mi sento dall'altra parte e quindi devo dire che è bello segnare facendo un solo tiro in porta prossima partita ragazzi contro i burmi le scuole che non ho mai sentito nominare siamo ancora in campo davvero le stiamo giocando tutte siamo ancora in testa altavolta con un solo punto di distacco causa per il pareggio contro il Liverpool fuori casa comunque ci sono Manchester City e Manchester United lì davvero che ci stanno dietro dobbiamo stare attenti ragazzi nel prossimo episodio andremo a giocare la partita di campionato ci faremo sui al 60esimo perché non voglio perdere la partita contro il Celtic abbiamo visto che un girone abbiamo beccato un girone tosto perché abbiamo visto che con il Lyon abbiamo sofferto e per poco davvero ragazzi se non era per quella mia magia al 90esimo penso all'80esimo 85esimo penso non la davvero non la portavamo a casa se ancora non la vedete si sta andando a vedere e poi ragazzi quindi sicuramente sarà dura anche contro il Celtic fuori casa quindi davvero non voglio perdermi questa partita poi ci saranno tutte quante le altre con anche l'Inter ragazzi che abbiamo beccato nel girone di Champions e invece abbiamo beccato il Tottenham ma gli ottavi della Capitola One Cup quindi per questo video è tutto ragazzi ci vediamo nel prossimo video lasciate un like ci vediamo a 200 seguitevi su Instagram su Peresco per tutte quante le live e ci vediamo al prossimo video bella